Seconda parte di Ci Siamo, concludiamo il discorso per quanto riguarda il girone A di prima divisione con una notizia che riguarda proprio i prossimi avversari del Monza che saranno di scena sabato al Brianteo, ovvero il Viareggio, che ieri ha cambiato allenatore. Durante la sosta ha deciso di cambiare guida tecnica e il nuovo allenatore è Stefano Cuoghi. Detto Bombardino quando giocava a calcio. Che insomma ne ha passate tante nella sua carriera e ripartirà da Viareggio. Una notizia un po' insolita perché il Viareggio sembrava che non volesse più cambiare allenatore dopo il primo cambio che c'era già stato. Giovanni Dolci che è il direttore sportivo è una persona molto equilibrata, lo conosco molto bene e credo che se abbia fatto questo passo l'abbia fatto proprio perché lo riteneva assolutamente necessario. Poi io non conosco all'interno quali possono essere state le cause, però ho voluto dare questo dato. Giovanni è veramente un direttore sportivo molto attento che assolutamente non è un istintivo per intenderci, per far capire i nostri telespettatori. Io ho qualche amico a Viareggio e qualcosina conosco di quella situazione. Questo secondo allenatore, questo che è stato generato adesso, è sempre stato vissuto un po' dalla ciurma e anche dal popolo viareggio raro, pochi tifosi. È sempre stato vissuto come un precario e quindi non gli è mai stata data grandissima credibilità. Secondo me il Viareggio ha aspettato troppo a fare una sostituzione autentica sulla panchina. Girone B, andiamo a vedere anche qui le tre partite che si sono giocate in questo weekend. Pareggio reti bianche tra Piacenza e Portogruaro. Bel salto del Prato che ha vinto in casa contro l'Andrea per 2-1 e poi il risultato reti bianche tra Virtus, Lanciano e Frosinone. Partita che si è conclusa 0-0. Per una classifica che vede questo balzo del Prato che si porta in zona salvezza. Tre punti fondamentali, eh, Gufanti, per la squadra toscana. E l'Andrea che invece resta nei bassi fondi della classifica. Abbiamo anche le immagini di Prato-Andrea. Portogruaro e Lanciano, come per il girone A, che dicevo prima, in questo caso non hanno sfruttato questa possibilità di entrare proprio nei play-off. Cioè non hanno sfruttato questo recupero, insomma. Anche qua è rimasto un po' invariato. Diciamo che in assoluto c'è una fuga dalla squadra di testa, no? Che è il Trapani. Per il resto credo che sia sempre quel girone equilibrato sin dall'inizio della stagione. e quindi la possibilità di ingresso ai play-off è ancora apertissima. Lisana? No, no, niente da aggiungere. Un'occasione perduta perché hanno giocato a non farsi male. Mentre era il caso veramente di tentare il tutto per tutto perché una vittoria avrebbe consentito all'uno o all'altra di avere prospettive molto più rose, molto più importanti. Possiamo dire che il Frosinone, vediamo anche le immagini di Prato-Andrea, è una delle grandi delusioni del girone B per il mercato che ha fatto, per il fatto di essere comunque una retrocessa. Il mercato organico, insomma, anche perché da tanti addetti ai lavori era stata messa tra le favorite di questo girone, però ricordiamolo, questo è un girone sinceramente senza nulla togliere, il girone A, questo è proprio un girone di ferro. Forse uno dei peggiori degli ultimi anni. È proprio uno di quelli assolutissimamente dove trovi veramente 6-7 squadre di livello più alto della media, normale. Quindi da questo punto di vista è normale che si discute di qualche società o di qualche squadra che non è riuscita, insomma, a secondo le previsioni. Sei d'accordo che sono stati fatti un po' in maniera squilibrata come forze questi gironi? Certo, la Lega però non si poteva mettere lì la scorsa estate a dire questa squadra è forte, questa no, allora. Però c'è una differenza molto grande tra il girone A e il girone B. Hai detto bene. Un dato che può far comprendere questa differenza che stai sostenendo è proprio quella dell'utilizzo soprattutto sui giovani. Nel girone A delle squadre di testa o del gruppo, prendiamo un gruppo di 10 squadre, utilizzano molto più giovani che il gruppo di 10 squadre del girone B. Cioè qua veramente alcune compagini... Non rinunciano addirittura... Non hanno rinunciato, hanno rinunciato assolutamente i contributi. Invece la domanda che voglio fare a Fausto Marchetti, come avete appreso voi la scomposizione di questi gironi? Cioè negli ultimi anni hanno messo le squadre del Nord anche nel girone B, insieme alle Meridionali, no? E quest'anno è stato ripetuto ancora questo esperimento. In Lega ci tengono, insomma, a questa scomposizione perché dicono è meglio che si vada ad una Lega Pro allargata, cioè non esiste più Nord e Sud, ma le squadre vanno un po' mischiate. Il tifoso cosa ne pensa di questo? La Lega fa stronzate, scusami il termine, perché onestamente con le difficoltà economiche che hanno la maggior parte delle squadre di calcio ad oggi, c'è una netta divisione tra i B anche per il discorso dei diritti televisivi. Quindi il fatto di far sobbarcare anche una società con delle trasferte così importanti ovviamente va a caricare quello che è un discorso economico notevole e onestamente non c'è una motivazione tale per dire che una squadra deve stare in un girone rispetto a un altro. Prima o meno c'è il discorso territoriale, invece così, tra virgolette, qualcuno può scegliere a tavolino che gioca da una parte o dall'altra, magari creando anche uno squilibrio, come si diceva prima. Quindi per quanto magari sia divertente anche per il tifoso andasse a fare una trasferta un po' più lontano, mi risulta abbastanza inutile una divisione di questo tipo. Quindi meno tifosi in Lega Pro in trasferta in quest'ultimo periodo. Questo è un discorso anche di tessera del tifoso. E ci arriviamo. Posso fare una domanda io? Perché colgo l'occasione che c'è qua, Fausto. Siccome io spesso e volentieri ho rimarcato degli stadi in Italia in generale in riferimento alla Serie A e Serie B, ma soprattutto in Lega Pro, super inadeguati, la riduzione del pubblico, adesso non vorrei che mi rispondi solamente legata al discorso della tessera del tifoso, che ritengo che possa essere una cosa che sta ritornando a vantaggio dei tantissimi tifosi che la criticavano. però secondo te perché il discorso dello stadio, del fatto che gli stadi non siano coperti, del fatto che non siano comodi o meno, porta lontano la gente dagli stadi o c'è ancora un discorso legato ai prezzi? Allora, c'è un discorso sicuramente legato ai prezzi perché in questi ultimi anni sono lievitati e se facciamo ad esempio un paragone soprattutto per le squadre vicino alle grandi metropoli, quanto costa un terzo anello a San Siro ad esempio e quanto costa un abbonamento in Lega Pro, vedi che la differenza è abbastanza limitata. Però al di là di questo ovviamente si parla di tifosi di squadre di Lega Pro, quindi non c'è tanto l'interesse a guardare questo, però lo spettacolo offerto di certo è notevolmente diverso, su questo non c'è discussione. Poi subentra il discorso stadio, il discorso stadio noi lo vediamo ad esempio con il Brianteo, Brianteo che era stato fatto quasi per avere una pista, diciamo la classica pista degli anni 80 perché era un po' moda degli stadi creati a ritorno degli anni 90. Non era moda, era legato a un finanziamento da parte del Coni, capito, tu fai la pista, tu mi fai la pista e io ti do il finanziamento, quindi volevo solo precisare, non era una moda, era proprio l'unico modo per ottenere un finanziamento da Roma. Materialmente sono stati creati stadi non funzionali per il calcio, perché vedere anche una partita del Brianteo che non ha tutto sommato, non è stata creata questa pista, però effettivamente si è lontano dal campo di gioco e questo crea una distanza notevole tra quello che è l'effetto spettacolo e poi l'effetto visivo che si ha effettivamente. E' indubbio poi che gli stadi faticenti che ci sono in Italia rispetto a altre strutture che ci sono all'estero vanno anche a creare una difficoltà oggettiva, perché abbiamo visto ultimamente ad esempio con queste gelate, con tutto quello che ha creato, stadi completamente non hanno. Però perdonate, insomma, non possiamo pensare che stante l'economia attuale, soprattutto, ma in assoluto, sempre, non possiamo pensare che delle risorse del Paese possano essere distratte verso la costruzione di stadi efficaci. E' un bene che utilizza la gente, che utilizza, voglio dire, la cittadina. Ma a tutti i livelli. Non è che lo stadio sia fatto per gente... Però fammi finire, Gufanti. Voglio dire che non puoi pensare che il piccolo centro, il piccolo club, possa sobbarcarsi come sarebbe lodevole, lo stadio di proprietà coperto col campo sintetico, perché non è possibile, non è possibile proprio in assoluto. E poi vorrei spostare un attimino l'indirizzo di questa discussione, anche perché a Monza, nelle scorse domeniche, c'è stata una protesta da parte degli ultras della Curva Piere. Eccoli qui, vedete gli striscioni. Questo è il nostro stadio, questa è la nostra città. Una manifestazione proprio contro la testa del tifoso, perché c'è stato un piccolo paradosso, no, Fausto, a Monza, che cos'è accaduto nel derby con la Trizio-Monza era la partita. Ok, la partita era a Trizio-Monza. E sappiamo tutti che da quest'anno... Scusa, Trizio e Trezzo, per chi magari... Trezzo è grande. Tra Trezzo e Monza ci sono... No, perché molti ci siano da Sud anche... Tra Trezzo e Monza ci sono, penso, 15 km, massimo 20 km. Tra l'altro è una di quelle città che non ha diritto alla provincia di Monze-Brianza. Però sono due province diverse. Sono due province diverse. Dopodiché, se no, non si capisce. E questo è importante. Cioè, ovvero, Trizio risulta nella provincia di Milano e quindi Monza nella provincia di Monze-Brianza. Nei nuovi regolamenti di quest'anno, perché non sono leggi, perché le leggi sono una cosa, i regolamenti interni, cioè i protocolli di intesa dell'osservatorio, sono tutt'altro. E' definito che su, diciamo, due squadre di calcio, ad esempio, faccio l'esempio di Monza-Foggia della domenica precedente, era vietato ai residenti della Puglia, ovvero vale la regione, perché le due squadre sono di due regioni differenti, di assistere, di poter comprare i biglietti la domenica al Brianteo. Vuol dire che un residente in Puglia non poteva comprare i biglietti, se non munito di trasferire il tifoso, quindi già munito in precedenza. Però un tifoso del Foggia, residente, ad esempio, nel Lazio, poteva venire al Brianteo e comprare i biglietti di tribuna. Detto questo, quando le due squadre invece sono all'interno della stessa regione, vale la provincia. Quando sono della stessa provincia, valgono i comuni. Poi c'è l'effetto derby, ad esempio, pensiamo, il più vicino, ovvero l'effetto derby della Madonnina, ad esempio Milan-Inter, oppure Roma-Lazio, oppure Juve-Toro, anche se giocano in stadi diversi, quindi lì sarebbe un ulteriore discriminante, diciamo. Ok, per entrare nel settore ospiti devi avere comunque la testa del tifoso, però ovviamente un residente di Milano può andare a prendersi il biglietto nel derby e può andare dove vuole, tranne nel settore ospiti, come abbiamo appunto detto. La ragione vuole, e anche un po' di intelligenza barra saggezza, che giocando l'attritium al Brianteo, quindi tutto l'anno il Brianteo non è stata una partita casuale, società che viene ospitata, quindi è ancora diverso, perché magari Milan-Inter si dividono lo stadio, invece l'appalto del comune è del Monza, che lo subappalta l'attritium. Detto questo, questa domenica al tifoso, comunque al residente nella provincia di Monza e Brianteo, è stato vietato di andare al Brianteo. Sprovvisto di tessera, quello sprovvisto di tessera. Assolutamente, quindi non poteva comprare il biglietto e andare nel suo stadio. Questo è il paradoso. Ma alla fine siete riuscite, sono riuscite ad entrare o no? No, ma il biglietto dove si comprava, si può dire. No, ma scusa, il biglietto... È stato trovato un compromesso. Diciamo che fortunatamente c'è anche un po' di saggezza e di intelligenza e di buon senso. Ovviamente per arrivare a tutto questo hai visto cosa abbiamo dovuto fare. Volevo capire bene, se tu volevi comprare il biglietto per vedere Trizio Monza, dovevi avere la tessera del tifoso. Se è residente in provincia di Monza e Brianteo. E andare a comprare dove fisicamente il biglietto? A Milano, in una tabacchierezza. Perché questo vi stava sfuggendo. Bisognava andare, il tifoso del Monza andava a Milano, in una tabacchiere, a comprare il biglietto per la partita a Trizio Monza. Sono le foglie purtroppo del calcio di oggi. Ma le incongruenze di questa tessera del tifoso che andrebbe rivista completamente. O forse abolito. Andiamo in pubblicità. Ci vediamo tra poco. Abbiamo anche le convocazioni di Riccardo Guffanti per il Girone B. A tra poco.